Noi siamo BitNine Studio, un team di sviluppo romagnolo di videogiochi indipendenti e portiamo oggi a svilupparti Terrolding, che è un videogioco meta che si sviluppa intorno all'idea di utilizzare creativamente i bug. In pratica c'è questo sviluppatore, che è un personaggio dentro al gioco che vuole far giocare il giocatore a tutti i costi. Purtroppo lui non è un bravo sviluppatore, ha riempito il gioco di bug e glitch quindi il giocatore deve usarli a suo vantaggio per finire la storia. È un gioco a bibi, pieno di scelte e pieno di scene divertenti perché è un gioco poco. E niente, provatelo, c'è un sito www.terrobain.com Grazie